Loreto ha commentato il mio post il 12 luglio alle 14.36 dicendomi Romano Antonio Anna Amodeo chi potrà dare vista ai ciechi se non solo Dio? Chi non è da Dio non ascolta la sua parola e voi non ascoltate neanche se ci sono asini parlanti. Caro Loreto sono perfettamente d'accordo con te e ti spiego esattamente come stanno le cose. Lo faccio per iscritto proprio per dire le cose con una precisione che possa essere meditata e ti rispondo così. Caro Giovanni Loreto io Romano Antonio Anna Paolo Torquata Amodeo sono perfettamente d'accordo con queste tre affermazioni che tu hai fatto per queste ragioni che solo Dio fa vedere al mio personaggio. Vediamo la prima delle tre. Tu dici ripetendo quello che ha detto Gesù. Chi potrà dare vista ai ciechi se non solo Dio? Dico io solo Dio elegge i suoi eletti e sono pochissimi poiché molti sono i chiamati ma pochi gli eletti fu rivelato da Gesù. Come vedi io credo in Gesù. Pertanto tra i molti cristiani i molti ebrei e i molti islamici che insieme sono quasi tutti gli uomini della terra sono miliardi i pochi eletti sono quei pochi ai quali solo Dio dà la vista e concede la capacità di adeguare il credere ai tempi nuovi. Ogni fede storica come quella in Mosè non accetta di essere rinnovata nemmeno quando viene il Messia tanto che lo misero in la croce. Se ti ricordi bene a Gesù dicevano ha detto questo Mosè dunque tu cosa vuoi dire di nuovo? Gesù per di più lo disse di non avere rivelato tutto. Disse che avrebbe mandato uno spirito paraclito che quando gli uomini sarebbero stati in grado di portarne il peso avrebbe rivelato una verità che avrebbe liberato tutti e sarebbero stati liberi davvero ma nonostante che Gesù disse di non avere rivelato tutto nonostante ciò il cristianesimo dichiara che ha rivelato tutto e si dimostra tuttora incapace di riconoscere le ragioni particolari dell'Islam. Tutte le ragioni che esistono nel mondo caro Giovanni Loreto in un mondo che è determinato e fatto solo da Dio sono volute da Dio. Infatti non esiste solo che uno riceve la vista da Dio uno da Dio riceve l'intero disegno della sua vita. Ogni uomo ha un progetto tutto realizzato per lui che si potrà conoscere soltanto in quella famosa eternità in cui tutto quello che sembra accadere e evolversi ora nel tempo esiste già tutto anche se ora che siamo ancora nel tempo ci sembra che possa essere modificato. Quello che esiste nell'eternità esiste già ora nell'eternità anche se noi non lo abbiamo ancora in apparenza deciso. Il disegno c'è già tutto e nell'eternità esiste già l'insieme di tutte quelle cose che ora crediamo ancora non esistano perché le stiamo facendo noi e possiamo scegliere se farle rosse oppure bianche così come ci piace. Invece no è solo Dio l'unico creatore. Decalogo. Primo dei comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo e non ne avrai un altro. Sono l'unico. Il solo. Non ce ne sarà un altro. Allora immediatamente bisogna anche capire che quando arriva Gesù Cristo e si afferma non è un altro è all'interno di quell'unico e così quando arrivano tutti gli uomini non sono altra cosa. Sono sempre immagine del Creatore nella sua infinita anima per come anima tutta la realtà attraverso quelle infinite anime che sembrano essere l'anima nostra di ciascuno di noi. Non sono anime nostre, sono anime di Dio perché Dio è l'unico che esista e può determinare esistenza. Allora concludiamo. Solo Dio potrà aiutare i soliti sordi e ciechi alla nuova e avanzante verità. In che modo? Con che cosa? Attraverso una verità divina e di vera salvezza totale. Il Salvatore è la verità divina che si adegua per essere sempre pronta e adatta a ciò che l'uomo in ogni tempo conosce essere la verità e Dio si mostra attraverso quella verità che è creduta dall'uomo perché la relazione tra Dio e ciascuno di noi esiste veramente come una sorta di linguaggio tale che se l'uomo parla per esempio in francese Dio gli risponde in francese il che non significa che Dio conosce solo il francese o che sia un francese. Nello stesso modo visto che noi siamo uomini e persone per mostrarsi comprensibile da noi assume il nostro aspetto personale e si mostra come un padre o come ciascuno di noi figli o come quella madre che è nelle forme di un legame nuziale con lo Spirito Santo di Dio. Dunque Dio ha il modo di poter dare vista e lo dà e lo può dare solo attraverso la verità. A mano a mano che la verità conosciuta dall'uomo arriva sempre più vicino alla verità perché duemila anni or sono non si conosceva come era fatto il mondo e Dio deve adeguare la risposta data all'uomo adeguando la verità di Dio alla verità che l'uomo conosce ora tanto da renderla veramente una risposta data da Dio all'uomo di oggi con i problemi reali che l'uomo ha oggi. La seconda osservazione in base alla quale ora io intervengo è quella che è messa lì evidente nel riquadro. Chi non è da Dio non ascolta la sua parola e io ripeto pari pari quello che ho già risposto per la prima domanda. Solo Dio elegge i suoi eletti e sono pochissime poiché molti sono i chiamati ma pochi gli eletti cosa che fu rivelata vera da Gesù. Pertanto tra i molti cristiani i molti ebrei e i molti islamici che sono miliardi nel loro insieme in tutto il mondo sono pochi eletti e sono quei pochi ai quali solo Dio dà la vista e concede la capacità di adeguare il credere ai tempi nuovi. Ogni fede storica come quella di Mosè non accetta di essere rinnovata nemmeno quando viene il Messia tanto che lo misero in croce. Gesù lo disse di non avere rivelato tutto e nonostante ciò il cristianesimo dichiara che ha rivelato tutto e si dimostra tuttora incapace di riconoscere le ragioni particolari dell'islam. E qui io immagino che scateno l'ira di tutti i cristiani che credono in perfetta buona fede che quella innovazione che portò Dio attraverso il profeta Maometto non sia accettabile. Allo stesso modo con cui gli ebrei credettero in perfetta buona fede che quelle novità portate da Gesù Cristo non erano accettabili perché in contrasto con le comunicazioni date molti secoli prima. Ecco, chi non è da Dio non ascolta la sua parola di nuova e avanzante verità. È questa parola che non ascolta. La parola antica l'ha sempre ascoltata e infatti in virtù delle cose dette da Mosè rigettavano le novità dette da Gesù. Questa fede nell'antico c'è sempre stata. Ebbene, chi non è da Dio non ascolta le nuove parole che Dio dà all'uomo nuovo perché si accanisce a non volere mutare una fede oramai rivelata con parole non più adeguate a esprimere la vera relazione e comunicazione che Dio dà agli uomini del tempo. Dunque, mentre tu, caro Giovanni Loreto, mi hai posto questa affermazione dicendo che chi non è da Dio come me non ascolta la sua parola che è la parola di Cristo e basta perché Dio ha detto tutto, io ti dico che sono d'accordo con te ma chi non è da Dio non ascolta la sua parola che dice ora. Dio parla sempre, parla anche ora, parla attraverso le persone, parla attraverso tutti, soprattutto attraverso i poveri, i disgraziati, quelli ai quali non daresti una lira di importanza. Dio parla attraverso di loro, è eloquentissimo, è presente, è vivo Gesù, non è il Gesù morto come si legge sui Vangeli, è il Gesù vivo che accompagna l'uomo per la sua promessa fatta, io sarò con voi fino alla fine dei tempi e Gesù è vivo oggi. Quando andiamo a comunicarci alla Santa Messa facciamo addirittura un incontro corporeo con il suo corpo. Questa è la grande libertà e facoltà che la Chiesa Cattolica ha dato ai cattolici, una grandiosa libertà che tutti coloro che hanno seguito un'altra via hanno perso, hanno perso il potere reale di mettersi in comunione con il corpo e il sangue di Cristo e credono che sia sufficiente quella fede rispetto alle leggi originarie, tanto che a un certo punto viene fuori nello sviluppo e nella storia della fede chi, riconoscendo ingiuste tutte le novità che nel frattempo erano state introdotte dai vicari, di Cristo, che Gesù aveva fondato proprio per un adeguamento continuo, che fosse sempre presente il suo vicario, il suo rappresentante nel mondo e non ci fosse un mondo senza chi lo rappresentasse, questa cosa ha voluto Gesù con il Papa per costoro non è vero e praticamente si sono accaniti, nel rispetto di una fede antica proprio e hanno rigettato il cattolicesimo e tutte le novità alle quali Dio ha portato il cattolicesimo attraverso anche tutta una serie di errori, perché Dio è un grande maestro che insegna attraverso gli errori, con gli errori è più facile insegnare, tu puoi dire cento volte a tuo figlio stai attento come martelli su quel chiodo, ti puoi dare una martellata sulle mani, stai attento, stai attento. La cosa più efficace per farglielo capire accade quando quel bambino si dà una martellata su un dito e allora finalmente capisce che cosa voleva dire il suo padre. Ecco, l'errore ha questo scopo nell'arco della chiesa e una chiesa cattolica che sbaglia è come chi in un certo senso è stato portato a dire, come Gesù aveva dato facoltà, dite sì e no, perché il di più è del maligno. E' la chiesa cattolica che ha detto tante volte dei no, ma non in linea di verità di fede, ma in linea di verità di altro genere economiche legate al mondo di Cesare, per cui abbiamo avuto papi che veramente si sono comportati peggio di un re, hanno fatto delle porcherie umanamente proprio inenarrabili. Non si può attribuire a Dio la capacità di essere infangato da questi rappresentanti di Pietro, perché Cristo accompagna a tal punto i papi da non essere minimamente infangato dal fango di tanti personaggi e poi nell'arco del tempo svolge il suo ruolo nei confronti della chiesa e la guida, tanto che in questi tempi la fede è arrivata a capire finalmente che l'uomo debba essere aiutato e cerca di farlo. Non ha ancora capito, non ha ancora maturato che quel potere vero dato all'uomo Dio non glielo ha mai dato, glielo ha dato solo come una pura apparenza di tipo fattivo, esistente, ma solo come una fantomatica ribellione a Dio che riporta tutto all'origine e se tutto va all'origine in che modo può fare l'uomo partendo da quell'origine? Come un fiume che va dalla sorgente tutto al mare e in cui l'uomo solamente nuota controcorrente ma non ha una velocità tale da riuscire mai a raggiungere la sua sorgente e volente o nolente è trascinato infine a mare. La capacità dell'uomo non è tale da fargli vincere quella morte a cui tutte le cose della vita sembrano condannate. Dunque, in relazione a questa accusa, chi non è da Dio non ascolta la sua parola di nuova e avanzante verità. Quando la ascolterebbero, quando fossero davvero convinti che Dio sia via vita e verità, così come disse Gesù e rivolti a una verità che non è quella umana, che trascende totalmente da quella umana, tanto che se la verità umana osserva una vita condannata a morte, la verità divina parte da quella morte e riporta all'origine della vita. Questa è la verità divina, uguale e contraria alla verità umana, in cui la verità umana è che è l'uomo che fa, la verità divina è l'uomo che riporta tutto al principio di ogni azione. E questa è la nuova verità che bisogna accettare e capire. E veniamo al terzo punto, che è quello che è inquadrato nel contorno rosso. E voi non ascoltate neanche se ci sono asini parlanti. Cosa significa che ci sono asini parlanti? Significa che voi non ascoltate nemmeno quando c'è un asino come me, che ho stentato negli studi e tutti considerano davvero un asino, un somaro in tutto, e che dimostra straordinariamente verità impossibili a lui. È un asino che racconta delle verità che, se è un asino, non possono essere farina del suo sacco. Verità come questa. 10 elevato a 0 uguale 10 elevato a 1 che si moltiplica per 10 elevato a meno 1, che è la vera trinità di Dio esistente tra il Dio in potenza unitaria, data da 10 elevato a 0 uguale a 1, che è il Dio 1 che ha parlato con una cabbala poggiata sul 10, che ha ordinato attraverso 10 comandamenti e che mentre è 10 elevato a 0, Dio unico nel modo che tale lo crede Allah in Allah diventa l'amore unificante tra il Padre, sempre Allah 10, quando però entra nel campo reale e assume la potenza più 1 che lo realizza nella nostra realtà, in quanto lo 0 che è in potenza in Allah si attua in quella dimensione meno 1 che, come dice il credo cattolico, procede dal Padre e dal Figlio, ossia sia da più 1 sia da meno 1 ed esiste nella dimensione 0 in Allah uguale 10 elevato a 0. Questa verità è incontestabile. Dice che 1 è uguale a 10 decimi, una verità incontestabile, ma anche è una verità divina, perché rivela che la forma unica presente in Allah, posto come unico in un membro, posto come 10 elevato a 0, quando entra in atto reale, nel mondo reale, si esprime allora in 10 decimi, che sono il decalogo e quanto spetti in decime alla tribù che si occupa di Dio perché è la tribù dei sacerdoti di Yahweh. E quest'altra ancora. Dio, per mostrare agli uomini in modo oggettivo un tempo avanzante in moto orario, egli che vede in faccia la verità degli uomini, lo muove davvero in modo anti-orario, così come è provato dall'algebra, combinando la vista più 1 paterna con quella meno 1 dei figli. Solo se Dio riporta tutto a principio e salva gli uomini dalle loro azioni, esse le vedono fatte nella loro realtà, per la forza evidente nella natura e nella vita presente in essa, che mostrano una capacità relativa esclusivamente ad un disegno procedente in senso inverso, verso il suo ritorno a 0, che nella realtà poi è il verso magnetico e il verso antimateriale che è di andamento centripeto, mentre invece noi vediamo un mondo in espansione perché è uguale e contrario e lo vediamo a partire da quel punto di Big Bang verso il quale invece tutto sta andando. E quest'altra ancora. Il Dio che dunque rivela una verità che libera tutti davvero, ha parlato per bocca di un asino e voi non l'ascoltate. Così facendo pochissimi sono gli eletti per i quali le verità comunicate nel passato non sono più un insormontabile ostacolo al Dio della verità che adegua i suoi insegnamenti alle verità progressive conosciute e salva tutti davvero una volta che essi hanno capito che mentre si illudono di poter fare sia il bene sia il male, solo Dio sormonta tutto e ha il potere di convertire il tempo dell'universo reale e lo fa ritornare realmente al principio potendo salvare tutto. Ma mentre Dio lo riporta al principio concede all'uomo una visione relativa apparente uguale e contraria di un universo che parta da quel principio e si espanda, ossia uguale e contrario in tutto, mentre Dio attua il ritorno alla sua origine concede all'uomo la visione uguale e contraria di vedere un inizio da quell'origine in un modo tale che l'uomo in un certo qual modo ottiene la sua apparente autonomia e la sua apparente libertà in un mondo che è ordinato ben ordinato da leggi. Ecco come con la verità Dio converte l'intero universo e vince la morte. Ora tutto questo che state udendo lo dice uno che è proprio giudicato asino da tutti i fisici che ascoltano le cose che io dico e sono talmente pieni delle verità note che non riescono nemmeno ad accorgersi della vera novità che esiste e che è detta da questo asino. Allo stesso modo si comportano tutti coloro che non accettano in alcun modo di vedere in me una figura che Gesù Cristo aveva proprio descritto che sarebbe venuta ma il bello è che questo asino parlante ha anche una quantità di segni straordinari che lo fanno vedere descritto dal Vangelo presente proprio in tutti i suoi estremi proprio per come la Bibbia ha descritto quella nascita dualistica gemellare che è accaduta in Genesi 25 e in Genesi 38 io che sono nato in gennaio 25 e 38 io che in Genesi chiamandomi romano sono come quel popolo che avrebbe dominato il popolo minore secondo proprio il risponso divino dato a Rachele in te ci sono due grandi popoli il maggiore si imporrà sul minore ma lo servirà ecco il popolo maggiore è il popolo romano ed ecco l'essenza del mio nome romano ma tra questi due nati reali è formato veramente il nome Gesù mettendo la G di Giacobbe davanti a Esau che perde la del suo primato e rimane Esu dopo la G dunque Gesù in questo brano del Genesi 25 c'è proprio la Genesi di Gesù come uno dei due ma è il messia del popolo minore mentre c'è il popolo maggiore che è il romano che servirà Gesù in che modo servirà Gesù dimostrandolo vero e adeguando le verità che disse Gesù in modo che siano riconosciute vere anche oggi con la legge della verità che si sa oggi nei vari campi scientifici ecco il padre che viene fuori proprio in un modo plateale da Genesi 25 poi è il nome esatto di mio padre ma anche il nome che viene nel primo genito Esau da origine al nome mio nome e cognome perché Esau se lo andiamo a leggere in un modo simbolico presenta le prime due lettere S che sono il tu sei in lingua latina quella di un romano es sum es est es è un tu sei romano questo tu sei romano perde il suo primato cede la sua priorità e proprio in virtù di questo sarà chiamato Edom ma poiché Edom è scritto da destra verso sinistra noi che lo leggiamo in italiano in modo trascendente ossia da sinistra verso destra mentre è scritto Edom è letto modè per cui Esau es a u sei da cima a fondo es a u sei romano da cima a fondo modè sei romano amodeo il padre di questo tu sei romano si chiama Luigi amodeo e qui arriva il bello prendendo proprio il nome scritto in arabo di Allah e ottenendone una visione speculare che è il modo oggettivo che noi vediamo Allah quando Allah è da una parte e legge Allah il suo nome ma noi che siamo dalla parte opposta lo vediamo in modo speculare e vedere in modo speculare il nome Allah lo porta a essere letto in italiano in modo evidentissimo lui dunque quel dio unitario che non accetta altri nel primato si mette primo ed è lui pronome anche che indica dio il corano è pieno di lui che parla e lui che fa e lui e anche noi quando parliamo di dio parliamo di lui lui è il pronome che è possibile a dio ebbene lui e dopo lui chi viene vengono i due gemelli nell'ordine che loro hanno attuato prima Giacobbe e dopo Esau ora Giacobbe non è più primo perché Giacobbe è primo in Gesù e allora rimane Trino in Già e dopo lui si attacca Già e diventa Luigi A Edom che è trasceso in Modè si attacca come terzo nel nomignolo perché ha perso tutto ha perso il primato ha perso la Trinità che è toccata al fratello e rimane solo con il nomignolo e il nomignolo trasceso in Modè e che si attacca a lui Già Modè fa proprio il nome Luigi A la mia consorte Giancarla il primo nome e vedete che già è già il valore Trino che esiste in Giacobbe che si è messo per primo quando si va a leggere come è scritto il Vangelo e si sa che il primo nacque Rossiccio il primo nacque Ro è tenuto per la mano da Già ecco Ro mano che ha dato la sua mano a Già a Giancarla Giancarla Scaglioni quindi c'è l'estremo di chi era primo veramente nato nel primo mese nel giorno 25 e cede il primato a chi è nato sempre nel giorno 25 perché quella mano è un trait d'union tra i due e però il primato è rovesciato perché è l'ultimo mese dell'anno ossia il primo nel verso trascendente quindi ecco che chi era il primo in 1.25 è preceduto da chi è nato invece il 12.25 poi viene Genesi 38 e in Genesi 38 si completa l'anno 38 della nascita ma qui è tutto un bel disegno che c'è in questa Genesi perché in Genesi 38 è descritto il quarto figlio Giuda che aveva concesso in sposa il suo primo genito Er la iniziale di Romano a Tamar Tamar agli estremi di Baratta Mariannina che è mia madre la quale figura sposa di Er di Romano pur essendo mia madre ma io vengo tolto di mezzo e allora questa sposa passa al secondo genito Onan e dunque dopo la R c'è Onan Ronan quasi Romano che è il dualistico sposo di Tamar muore anche lui perché la fonte di vita non deve venire da Er e da Onan ma deve venire dal padre reale di tutti e due e ci pensa Tamar a farsi fecondare dal padre reale Giuda i cui estremi di Giuda sono G e A gli stessi estremi di Gia Giacobbe ma gli stessi estremi di Luigi Amodeo estremi congiunti come in Tamar sono gli estremi congiunti di Baratta Mariannina in Gesù Genesi 38 determina la Genesi in trentottesima generazione dal padre Giuda come San Matteo descriverà la Genesi 38 mentre figura essere la mia Genesi nel 38 è la Genesi di Gesù Cristo trentottesimo da Giuda e la mano rivela questa volta non l'aggiunzione tra i due ma la precedenza perché esce quando viene fuori un nuovo parto gemellare solo una mano a fare il famoso cinque o il saluto romano a tutto il mondo viene decretato il primo un filo scarlatto cinge le cinque dita come un anello scarlatto è l'atto nuziale con sca scaglioni con scarla quel carla che si aggiunge alla Giancarla che avevamo visto prima in Genesi 25 tanto che Genesi 38 completa il nome Giancarla perché già è stato anticipato in Giacobbe e Carla sta nel filo scarlatto tutto ciò rivela nella mano un nome a cinque nomi che vale come un tutt'uno quando si fa la somma cabalistica dei valori di questi cinque nomi e viene 333 più 1 si capisce che è segno di una cosa sola l'unità nella trinità di Dio e dunque il valore quando gli si aggiunge anche il cognome Amodeo che vale 47 e arriva a essere 381 nel valore totale ecco che questo 381 esprime proprio quello che accade in Genesi 38 1 38 quando si prende l'uno iniziale e lo si manda in fondo tanto che diventa 38 1 il nome più giusto che sia descritto nato qui perché il soggetto nato qui completa i dati espressi ora con l'anno ma aggiunge perfino il codice fiscale intero perché MDA che sono le prime lettere di Amodeo in codice fiscale sono in MDA proprio la scrittura tale e quale del nome di Adamo Adamo per come è in ordine e lo vediamo noi è MDA letto a rovescio è ADM Adamo ma MDA è il nuovo Adamo proprio quello che fu descritto come colui cui si sarebbe andati AD AMO oppure se volete A AMOD 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 cioè da Adamo si comincia proprio con qualcosa che è rivolto come un progetto verso AMOD MOD lo abbiamo visto ora in tutto ciò il codice fiscale dei nomi visto che i primi tre nomi sono Romano, Antonio, Anna e il codice fiscale che viene fuori è RNN questo è il codice fiscale di R e Onan che sono i due reali mariti descritti in Genesi 38 RNN è il segno del mio nome e dunque il segno nel mio nome è quello che lo riferisce al duo di morti in R e Onan proprio come un ente che non vale niente è un asino ma è parlante perché c'è Dio che poi che prende il suo posto e interviene al posto di questo tanto asino che è addirittura una coppia di morti ora quando andiamo alle prime cinque lettere che vengono dopo a indicare giorno, mese e anno ed è nel mio caso il codice fiscale 38A25 ecco che quella A è proprio il numero uno del mese di gennaio o il primo libro di Genesi e 25 indica il capitolo 25 e 38 indica il capitolo 38 le ultime cinque descrizioni che cominciano con D5 rivelano proprio le dita 5 di quel saluto romano e il 27I che viene dopo quantifica il valore di quelle cinque dita perché 27I in 27 è 3 per 3 per 3 mentre la somma dei cinque nomi è 333 più 1 e nel caso di 27 più I presenta quella I uguale a 9 come l'arretramento di 1 quello fatto da Dio per far esistere un avanzamento di 1 e quindi mette la causa il 9 come la causa dell'unità e dunque l'intero codice fiscale MDA RNN 38A25 D527I è descritto pari pari in Bibbia Genesi 25 e Genesi 38 descrivono totalmente giorno, mese, anno di nascita padre, madre, descritto in un modo evidentissimo e precisissimo si arriva a capire anche che nel caso di papà e di mamma che hanno sesso inverso il nome e il cognome congiunti si rovesciano infatti il mio padre vale prima il nome Luigi Amodeo e si congiungono in GA mentre invece nel caso di mia madre che perde il cognome il cognome va messo per primo perché il primo è quello che va perduto e dunque baratta Mariannina insomma c'è ripeto tutti gli estremi tutti quanti io sono descritto in tutti i modi in Bibbia ma anche il mio nome e cognome che in forma una e trina ha le due possibilità Rom A per Roma oppure amo R per amor rivela in amor il solo nome proprio che secondo un grande santo che in un certo senso toglie di mezzo quella incredulità che ha avuto uno degli apostoli Tommaso perché questo il santo Tommaso d'Aquino è pieno di fede e si pone un giorno il problema qual è il nome proprio dello spirito santo e concluse il nome proprio dello spirito santo è amor e guarda caso amo R è amodeo romano trino nell'amore e uno nella R proprio in quel primato del R che è nato primo ma come tutti i primi devono uscire per ultimi ecco quando andiamo a considerare tutte le città terribili che esistono Roma l'abbiamo vista la Roma che uccide presenta in romano non un abitante di Roma ma una affermazione Roma no e no è salva il mondo proprio da che cosa dall'arbitrio che esisteva nella prima generazione del mondo dato dal potere di Roma ecco Noè è chi dice al mondo di Roma che non è insomma quando abbiamo che Gesù Cristo decide di chiamare Pietro il suo rappresentante perché sceglie il nome di Pietro perché P-T-R sono le tre consonanti che esistono nel mio nome che presenta come vedete sopra tre che cominciano per vocali che sono Antonio Anna e Amodeo e non contano ma poi c'è la R la P e la T ora se facciamo come descritto nei Vangeli che il primo va sempre posto per ultimo la R finisce in fondo e restano P-T-R come Paolo Torquato Romano che diventa proprio P-T-R cui manca per essere Pietro alla destra della P del padre la IE di Iesus e dunque ecco perché Gesù chiamò Simone Pietro perché P-T-R sono le iniziali che avrebbe avuto Gesù quando si sarebbe presentato nel padre suo presente in pura verità in puro spirito santo di verità ecco ma quando andiamo a prendere altre città che furono distrutte per esempio Sodoma noi quando vediamo come è scritta Sodoma da sinistra verso destra e la leggiamo nel modo divino e trascendente da destra verso sinistra ecco che Sodoma rivela una sua salvezza quando è Amod O-S Amodeo O-Salvezza e quando vediamo nello stesso modo Gomorra Gomorra trasceso diventa R-A diventa A-R Amodeo romano Rom romano o anche quel povero popolo Rom che oggi in Italia è il popolo più disgraziato che esista senza patria e G-E oppure G-E oppure Gesù oppure Geova ecco Roma l'abbiamo vista è amor e romano indica Roma no dunque se non è Roma che cosa è? è amor ecco come noi vedendo nel mondo reale proprio tutta la spietatezza di una Roma dobbiamo vederci dentro l'amor di Dio che toglie di mezzo e rovescia completamente la Roma nell'amor che salva ogni cosa questo nome ha tutti i nomi di Dio tutti infatti abbiamo che la fede che viene fuori in Abramo è partita da Ur ma da Ur parte anche la fede in Urano e Rano è praticamente romano senza Om senza l'uomo Urano il primo è il capo di tutti gli dèi suo figlio Saturno anche in Urano è un romano che è senza stavolta un altro gruppo di lettere Tu di Salerno Saturno e Giove rivela in Gio Joshua e in V il 5 della V che si attacca al Joshua insomma quando si afferma che è dall'Egitto che ho tratto mio figlio da che cosa di Egitto è venuto fuori la mia vita da che cosa Romano Antonio rivela Ra il dio del sole Romano Amodeo ribadisce il Ra in romano c'è il mano che è la stessa cosa di Oman di Onam ossia di Amon il dio del sole secondo proprio gli egiziani Amon Ra Amon Ra viene fuori Romano Amon Ra è romano Antonio il valore dell'altro nome che era quello di Aton sta in Antonio perché se voi osservate il nome Antonio come scritto lì e lo leggete in inglese avete in An l'articolo Il in fondo c'è un io e dunque è un io T on un io sulla croce N on inglese io italiano T on di Aton rivela ei T on uno sulla croce è anche il segno di una T con il disco solare sopra e in me c'è proprio tutto questo in segno se andiamo a prendere il dio monoteista giapponese si chiama Amaterasu Amatera Romano Modeo Su Chi Dio Amaterasu quando andiamo a prendere il nome e cognome di Buddha vediamo che è ricondotto a questo nome perché Buddha si è chiamato Siddhartha Gautama Gautama è G ossia Gesù Geova Out in romano in latino dice oppure Gautama Gesù oppure Am I am io sono Amodeo quindi in Gautama c'è Gesù oppure romano Amodeo il valore di Siddhartha si dd a r tau sei domine deus a r tau dell'universo sei romano Amodeo perché tutta questa grandezza data a questo soggetto perché questo non è il nome dell'asino ossia del personaggio questo è proprio il nome che si è preso Dio infatti nella cabala ebraica è creduto che Dio ha un nome segreto di 42 cifre e sono esattamente tutte le cifre che voi leggete in Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo che sono 36 al lavoro in 6 nomi 6 per 6 36 e in più ci sono 6 sabati alla fine di ogni parola proprio a indicare che in questo caso c'è tutto il lavoro in 6 giorni fatto in 6 nomi con in più 6 sabati ed ecco perché il 6 per 7 è 42 che sono le 42 cifre del nome segreto di Dio ma quando andate a considerare che in Genesi 25 ci sono due soggetti che sono Esau che vale 42 e Giacobbe che vale 42 scoprite che questo nome segreto che poi porta a Gesù lo abbiamo visto è proprio gemellato in questo 42 che indica proprio il valore del nome segreto di Dio essendo congiunto di due nomi 42 più 42 fa 84 il che è trasceso ossia è visto a rovescio in 48 uguale proprio Gesù e quando considerate che 84 ossia 42 più 42 è il nome Mariannina di mia madre avete anche la presenza di mia madre in Genesi 38 che è una presenza sostanziale allo stesso modo in cui è una presenza sostanziale il 48 di Gesù insomma io mi fermo qui perché ci sono tutti i segni il giorno in cui io nacqui c'è stata l'aurora boreale così grandiosa che Lucia di Fatima vi vide il segno che aveva descritto la Madonna dicendole che quando un giorno a notte vedrai il sole così e così è il segno del principio del castigo di Dio il castigo di Dio che Lucia di Fatima pensò fu la guerra mondiale che fu decisa da Hitler ma il vero castigo di Dio è stato Dio che si è presentato in un asino che si è presentato in una stalla piena di rifiuti come Gesù si era presentato in una stalla oggettiva il cui stallatico era pieno dei rifiuti delle bestie invece in cui lo stallatico che ci riguarda noi uomini sono proprio tutte quelle feci che in effetti sono i vari io feci questo io feci quello io feci quest'altro e l'uomo che crede in questi io feci in effetti presenta tutti i veri e propri rifiuti all'unico Dio che fa insomma ci sono tutti i segni ma chi non vuole ascoltare e non li vuole vedere perché non accetta in alcun modo l'idea stessa che Dio si riveli continuamente è uno che poi crede che chi non ascolta è chi invece ascolta mentre invece crede che non ascolta è invece l'unico che ascolta Dio perennemente in tutte le comunicazioni che Dio dà in ogni momento della vita e non solo attraverso i Vangeli c'è la natura gli eventi della natura che presentano un Dio vero in atto questo Dio vero in atto che aveva bisogno di amore di pietà di aiuto è sempre esistito prima che fosse Cristo quando c'era ancora l'uomo troglodita e allora cosa era dell'umanità prima che venisse la legge e prima che venisse il cristianesimo erano abbandonati no erano assistiti da un Dio presente negli eventi presente sempre al nostro fianco prima ancora di essere stato descritto e Dio non abbandona mai a una pura lettura perché altrimenti i nati prima di quella lettura sarebbero stati abbandonati a se stessi e Dio non abbandona nessuno a se stesso perché Dio è il padre Dio è chi è perennemente di fronte a noi e non ha bisogno di mio Dio mio Dio non ha bisogno perché coloro che si rivolgono a Dio perché è potente sono simili ai ruffiani che solo perché Dio è potente si trattano e lo trattano con grande rispetto nel timore del castigo mentre invece Dio ama essere visto laddove proprio non sembra che ci sia in un povero in un lebroso in uno a cui manca ogni cosa lì c'è un Dio presente vero un Cristo un povero Cristo che parla da solo senza tante teorie o idee leggibili e comprensibili a livello teorico e a livello ideale qui è messo davanti proprio quella bontà di cuore che c'è o no quella sensibilità immediata che esiste o no quando di fronte a uno che ha bisogno ciascuno di noi dice che faccio lo aiuto o attraverso la strada per non imbattermi nemmeno in lui ecco Dio parla sempre in moltissimi nomi parla a chi si crede ateo con le verità che questo ateo accetta come esistenti perché anche un ateo non si vede in un mondo che non è regolato da leggi e allora cosa sono queste leggi che comandano nella natura se non un valore che rimanda a una potenza che esiste al di là di noi e che è posta sopra il nostro essere ecco chi non crede in Dio ma vedendo ciò che esiste nella problematica umana e se ne fa carico non ha bisogno di una impalcatura di relazioni che esprimono cosa sia giusto o cosa no la prova cui è sollecitato è questa sì sì no no il di più il vedremo però ma eccetera è nel tempo e tutto quello che accade nel tempo è opera del maligno perché noi stiamo vedendo in modo maligno la salvezza che Dio porta a tutta la sua creazione perché mentre Dio veramente la sta portando noi siamo portati a credere a chi ci dice che non è vero perché noi non stiamo andando al principio ci stiamo muovendo da quel principio verso il punto opposto e invece la verità vera è che noi stiamo andando al principio vero dell'esistenza e se la vogliamo esprimere a livello di fisica la verità è quella azione magnetica che è la causa di quella elettrica nel mondo non esisteva la corrente elettrica quando noi produciamo la corrente elettrica la produciamo con una causa magnetica facciamo girare un campo magnetico e grazie alla rotazione in atto nel campo magnetico l'effetto è un movimento apparente in modo uguale contrario ed è il moto elettrico dunque è il moto elettrico che ha a monte come causa il moto magnetico e il moto magnetico è e va sempre verso il centro nell'universo va verso quel big bang da cui invece noi vediamo uscire la materia e la forma elettrica ma se noi vediamo uscire dal big bang la materia e l'espansione elettrica è perché siamo vittima di una maligna rappresentazione della verità che è di tipo magnetico e di tipo antimateriale ossia spirituale e noi la vediamo in modo maligno uguale e contrario al vero tutta la scienza umana che confida nell'evoluzione e confida negli atti che riguardano la materia sono tutte travisazioni della verità anche se la legge è scoperta vera si è portati a riconoscere vero non la dinamica vera ma la dinamica fasulla perché è uguale e contraria confondendo il futuro con il passato e così poiché noi non sappiamo che stiamo venendo da lì dove invece sembra che noi andiamo crediamo che quel punto lì verso cui andiamo riguardi il futuro mentre invece è il passato da cui veniamo come facciamo a misurare a cambiare e a volere modificare il passato il passato cosa fatta a capo a ebbene il passato vero è il futuro e noi lo vediamo però come il futuro e ci confondiamo e crediamo che sia possibile cambiarlo come vogliamo noi ma non è vero non è così e tutto il mondo è nella dimensione di solo Dio che comanda ma comanda nella linea di salvezza che riporta tutto nella centralità di Dio come in quel punto estremo del Big Bang in cui sparisce tutta la realtà e Dio ci salva da tutta la realtà ma ci mostra una salvezza affidata al diavolo e il diavolo ce la mostra come una grande rovina e una cosa da temere e a questo punto tutta la conquista dell'uomo che vuole seguire Dio deve essere spinta a riconoscere il mondo del padre non il mondo in cui noi siamo ora che è il mondo dei figli il mondo del padre ed è questo che fa Dio dentro di me cerca di farvi conoscere le ragioni del padre e le ragioni del padre sono salvezza anche per un figlio che è calato nel nostro mondo prima del suo atto finale chiede a Dio padre se possibile allontana da me questo calice ed è vero Dio lo allontanerà perché nel mondo non accadono le cose sono eliminate e di conseguenza non accade che Gesù beva in quel calice è eliminata quella possibilità a Gesù proprio in risposta di adesione a quella domanda fa che io non beva e infatti Gesù non beve ma appare bere appare che Dio sia così crudele nei confronti del figlio di indurlo a una apparente morte ma questa apparente morte la rappresenta così solo Satana solo Satana poteva portare alla possibile visione di un figlio di Dio che muore e Dio vince Satana facendolo vedere risorto ma Dio vince Satana anche prendendo tutta la dinamica del mondo e facendola correre al contrario dunque se il potere del figlio sta nel perdonare i peccati il potere di Dio padre che si è rivelato attraverso l'adeguamento alla verità finale è di una vera salvezza da tutti gli eventi perché questi eventi sono tolti di mezzo non è tolta di mezzo solo la colpa grazie alla morte del figlio ma sono spazzati via proprio tutti gli eventi umani come mai accaduti e visti solo in opera di un egemone Satana che mentre Dio ti salva ti fa vedere un Satana che ti porta a morte di un Grazie a tutti.